Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. La dieta antinfiammatoria ha dimostrato una riduzione della percezione del dolore, sia da un punto di vista centrale, quindi intervenendo, modulando il sistema della nocicezione, ma su questo poi ci entriamo in un secondo momento, e sia da un punto di vista periferico, quindi andando a ridurre l'edema, ridurre il richiamo di liquidi che poi determina, è influenzato, ma in realtà si influenzano l'uno con l'altro, con l'infiammazione. Mi raccomando, prima di continuare, ricordati di mettere mi piace, condividere questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale YouTube. Ora, cosa si è visto? Che l'alimentazione, lo stile di vita, influenzano in maniera importante un equilibrio, l'equilibrio tra orto e parasimpatico. E si è visto che quando le persone sono in orto simpaticotonia, quindi sempre in uno stato di allarme, di ansia costante, hanno sicuramente il cortisolo alto, e quando hanno il cortisolo alto hanno la serotonina bassa, quindi uno stato di angoscia, di depressione, di ansia, ma hanno anche le endorfine basse, quindi se non camminiamo tutti i giorni abbiamo le endorfine basse, perché le endorfine vengono stimolate da una passeggiata di 40 minuti al giorno almeno, vengono stimolate dai rapporti sociali, quindi parlare, ridere, scherzare con amici e parenti, vengono stimolate nel momento in cui ad esempio facciamo l'amore o ci gratifichiamo con un'alimentazione che ci piace. Ovviamente quando abbiamo le endorfine basse, la serotonina si è bassa, vivo in uno stato di angoscia, di ansia, mi chiudo in me stesso. Abbiamo problemi del cortisolo alto, ma si è visto che abbiamo la noradrenalina alta, e la noradrenalina alta è associata a stimolare il sistema simpatico ed è collegata a una percezione del dolore in maniera più importante. La cosa si è visto che se andiamo a ridurre, a eliminare per un periodo tutti i cibi proinfiammatori, carne rossa, affettati, lattosio, caseina, quindi latte, tutti i derivati del latte, come la mozzarella, il formaggio, la ricotta e via dicendo, ma anche tutte le solanacee, quindi pomodoro, melanzane, patate, peperoni, ricordati le bacche di goggi fanno parte delle solanacee, e riduciamo anche il glutine. E si è visto che applicando ad esempio un digiuno anche di un paio di giorni, per poi reimpostare una dieta vegana, ha un'azione antidolorifica, quindi sul miglioramento del dolore nell'immediato, ma che poi vi è importato avanti nel tempo in problematiche come l'artrite reumatoide, e qui è stato fatto uno studio nel 2001, e questo è molto interessante. Abbiamo visto che l'olio cantale, che è una molecola, un principio attivo, diciamo un nutriente contenuto nell'olio extravergine di oliva, ma quello vero, e ti rendi conto quando c'è l'olio cantale perché l'olio extravergine di oliva, quello spremuto a freddo, crea un pizzichino a livello della gola. Insomma, questo olio cantale, contenuto appunto nell'olio extravergine di oliva vero, ha un'azione antinfiammatoria simile all'ibuprofene, quindi un farmaco, che poi può avere degli effetti collaterali, questo farmaco, quindi mangiare l'olio extravergine di oliva, quello vero, a crudo negli alimenti. Anche gli antocianini, ad esempio contenuti nei mirtilli, contenuti nelle ciliegie, hanno un effetto simile all'indometacina, quindi un altro antinfiammatorio importante. L'acido alfalipoico, ad esempio delle verdure verdi, ha dimostrato di ridurre il dolore nelle neuropatie diabetiche, e anche questo è molto importante. La quercitina, contenuta nelle mele, ha dimostrato un effetto antidolorifico nei dolori a livello pelvico. Anche il digiuno del riso, definiamolo così, quando le persone iniziano a mangiare la crema di riso integrale con gomasio, in questo caso hanno una forte riduzione del dolore, una forte pulizia antinfiammatoria in senso generale. Quindi che dirvi, cerchiamo di preferire frutta, frutta secca, verdura di stagione, legumi, cereali integrali, cerchiamo di ridurre il glutine, quindi avanti a cereali come il riso integrale, come la quinoa, il grano saraceno, l'amaranto, il teff, il miglio. Tutto questo tende ad avere un'azione anti-infiammatoria, anti-dolorifica, importante. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video ti è piaciuto, ti piace e condividilo. Ciao!